Prima hanno presi i sogni e li hanno surgelati e poi ce li hanno dati in confezioni colorate ma erano soltanto versioni enulcorate e perpalate quasi grossolane. La fiera del precotto intanto richiamava orde vigente dalle colline intorno. Ai primi fumi fu subito perduta la ragione di tutto anche di quella riunione. E cominciò il bailamme. Gli spiriti sottili erano rimasti solo sotto vetro e in una strada buia del paese di San Pietro passava un motorino sgangherato. Così mi allontanai verso la sagoma scura degli alberi. Seguì la luna, vidi e non vidi l'umanità tripartita seduta al bar in tenta alla partita. I produttori decidono i consumi, gli schiavi muoiono e i consumatori salutano il defunto col portafogli in mano. E voi pensate se è più umano, non compro più, più non ti pago perché non sono pago di ciò che non mi serve, di ciò che inquina, di stare alla berlina. Che tu mi sfrutti, che tu te ne approfitti e tengo i miei diritti più che i tuoi prodotti. E sì, ma il vizio, il vizio inghiotta e chieno vizio, ci vuol pratica che l'occhio stuzzica e una sola bibita vale un esercito, fresca, gassata, amata bibita, con ghiaccio e senza ghiaccio e sulla spiaggia giaccio contento del mare del tempo. Grazie.